Arriva nella giornata di ieri quella che è in sostanza una delle più belle notizie dell'ultimo periodo, ma che comunque non ha smosso più di tanto anche i mercati, perché Bitcoin sì, è vero, ha fatto un mini rimbalzino, però vista l'importanza di questa notizia potevamo aspettarci di più. Allora BlackRock presenta una richiesta per un ETF di Bitcoin, essendo BlackRock con iShare una delle più importanti compagnie di gestione di quelli che sono gli ETF eccetera, ovviamente ragazzi c'è molta molta attenzione a questa cosa perché si pensa che effettivamente il peso di natura politica di BlackRock e iShare sul SEC sarà un po' più rilevante, rispetto a quello che abbiamo visto finora e che quindi la SEC magari ovviamente dirà il suo, insomma ne parliamo proprio in questo video, però ovviamente sarà un po' più predisposta o comunque il peso anche di natura politica si fa sentire. Quindi Gary Gessler alle strette con un attacco massiccio negli ultimi giorni da parte di una serie di politici americani per la sua onnipotenza, delirio di onnipotenza, alcuni l'hanno definito così e lo vogliono far fuori, insomma eccetera, da un punto di vista di licenziamento per la SEC. E poi dall'altra arriva anche la notizia di BlackRock che vuole entrare nel mondo di Bitcoin. Allo stesso tempo ragazzi Binance invece proprio notizie di questa mattina va a ritirare quelle che sono l'operatività in Olanda per via appunto di questioni legate alle regolamentazioni, quindi viene meno anche un paese importante, anche se non numeroso, insomma in termini numerici, però importante dell'Europa, continuano quindi un po' di disagi per quanto riguarda Binance con la questione regolamentazione e tutto il resto e ci sarà sicuramente molto da andare ad approfondire. Parliamo di questo appunto nel video, ragazzi ho preparato un video di recap di quello che sta succedendo, quindi anche regato all'analisi di questi dati che sono appena usciti questa settimana, dati molto importanti, li andiamo ad analizzare magari in maniera estremamente breve perché c'è la questione BlackRock, invece vorrei focalizzarmi per lo più su che cosa può fare questo nuovo ETF presentato da BlackRock, quelli che sono tutte le caratteristiche delle ETF appunto in questione. Io sono ancora a Rimini all'IT Forum, ragazzi, e mi sto riprendendo un po' a livello vocale, ma come mi sentite sono ancora a pezzi domani, però andrò da Binance per la prima volta, non ci sono mai stato, i meetup che fanno loro sono stati invitati, quindi farò anche uno speech nella giornata di domani proprio da Binance, non gioco a Padre, perché loro giocano a Padre, ma io non ho mai giocato a Padre in vita mia, quindi preferisco evitare queste figure, poi sarò al sole, insomma, e guarderò gli altri giocare. Vabbè, detto questo, ragazzi, parliamo un po' anche dei dati macro che sono usciti questa settimana, poi andiamo a tutte le caratteristiche importanti e fondamentali dell'ETF per analizzare quella che potrebbe essere le ripercussioni di una notizia del genere proprio su Bitcoin stesso. Allora, i dati, ragazzi, relativi al tasso di infrazione li avevamo già commentati nel video precedente, inferiore all'attesa, ma non così tanto, più in basso, se non che comunque Powell decide di non alzare i tassi di interesse e quindi blocca il tasso alla 5,25, ma in sostanza dice anche che entro la fine dell'anno la Fed potrebbe agire con altri due rialzi dei tassi, portando i tassi di interesse alla fine dei giochi a 5,75. Quindi solo una pausa di respiro per quanto riguarda la parte della ristretta monetaria per la Fed, ragazzi, e in realtà anche i mercati sembrano pensarla così, è vero che le previsioni che sono tra 40 giorni del prossimo FONC che avverrà il 26 luglio 2023, però in questo caso portano un rialzo di 0,25. C'è da dire che a 40 giorni di distanza queste percentuali sono estremamente da vedere, da prendere con le pinze, però in realtà io pensavo che Powell desse l'ultima zampata questa volta, lo farà nei prossimi mesi. Quindi da un punto di vista logico, una pausa di respiro per quanto riguarda il rialzo dei tassi, ancora vampata di infrazione da controllare secondo la Fed e quindi tutto resta secondo i piani. Altri 1-2 rialzi entro la fine dell'anno sono da attendere. I mercati l'hanno presa in maniera totalmente irrilevante, se ne sono infischiati ragazzi, tant'è vero che nei mercati Hold, non parlo delle crypto, che stanno vivendo un momento di totale decorreazione da quello che è il mercato classico come Nasdaq, ma Nasdaq ha fatto i numeri anche questa settimana, andando a realizzare quella che è una specie di versione ridotta di una bull run da senza senso ragazzi, perché guardate qui i rialzi dell'ultima settimana sul Nasdaq 100 incredibili, cioè parliamo di una continua sviluppo di serie storiche di candele verdi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verdi daily, tutte consecutive. Insomma ragazzi, veramente, sembra, sembra una mini bolla piccolina che è andata a impattare su uno dei livelli più importanti di tutti in termini tecnici, ne parliamo poi nel video di lunedì, cioè il 76.8 di Fibonacci, uno dei livelli di tecnici di una correzione di questo trend ribassista, rilevante, molto rilevante ragazzi, state pronti perché poi nel video di recap di quelle che sono le analisi cicliche e tecniche ne parliamo. Quindi dal punto di vista di lunedì, quindi dal punto di vista di altri dati, poi abbiamo la BCE che fa la stessa cosa che si attendeva, quindi rialzo dei tassi anche per la BCE, e le richieste di sussidi di soccopazione quasi rilevanti, perché in sostanza sono un po' più alte di quelle che sono le attese, ma non così tanto più alte, quindi non cambia la situazione degli Stati Uniti, che a livello di occupazione restano estremamente forti, nessuno si aspettava una cosa del genere all'inizio dell'anno, eppure questo soft landing alla fine in questa fase almeno è arrivata, poi ci sarà la zampata recessiva nella prossima parte dell'anno, potrebbe essere però al momento siamo riusciti a contenere, o almeno sono riusciti a contenere quelli che sono i disastri di una fase di stretta monetaria, quindi rialzo dei tassi. Poi oggi è appena uscita il tasso di infrazione dell'Europa, al 6,1 come previsto, ancora molto alto, quindi l'Europa ha veramente tanti mesi davanti per ritornare a un tasso di infrazione accettabile. Detto questo quindi ragazzi a livello di analisi dei dati macro, sostanzialmente quello che si è visto è la fine di questo momento, strano l'atteggiamento di Naltac veramente un po' fuori le righe, completamente decorrelato Bitcoin dall'atteggiamento anche di Nasdaq 100, questo un po' ragazzi ci fa rabbrividire perché qualora questa fase rialzista, questa mini bolla di tech americana che viene fuori probabilmente da tutta l'enfasi sull'intelligenza artificiale, venisse meno e quindi quando ci sarà la prima correzione utile probabilmente le cripto subiranno un atteggiamento difficile, quindi bisognerà andare a guardare questa cosa, questa decorrelazione è veramente un po' eccessiva al momento, vediamo se Bitcoin saprà riassorbirla con tranquillità, passiamo invece all'argomento del giorno che è quello dell'ETF, quindi BlackRock fa presente diciamo quello che è l'ETF ed è un ETF di quello che è una, di Bitcoin spot ragazzi, cioè non è un ETF a replica di derivati, e quindi fatto in sostanza imitando i prezzi del CME e quindi dei future di Bitcoin, bensì è a replica di natura spot, ciò significa che BlackRock dovrà avere in pancia i Bitcoin per garantire quelle che sono una serie di questioni legate appunto alla sua richiesta, quindi c'è la questione trust o non trust, cioè non è un ETF puro è un trust, che poi è la stessa cosa ragazzi di quando gli ETF vanno a replicare quelli che sono alcuni commodity come ad esempio il gold, quindi quando vanno a replicare queste cose in maniera fisica utilizzano la struttura del trust, in questo caso quindi BlackRock presenta la richiesta appunto per la struttura del trust, proprio come ha già il trust sul GLD che è quello famosissimo diciamo che si usa. Ci sono una serie di questioni che bisogna andare a guardare per quanto riguarda questa richiesta legata all'ETF, e sono in primis ragazzi la questione appunto che in pratica avremo l'acquisto materialmente appunto dei Bitcoin, quindi se dovesse passare questo ETF, se la SEC dovesse approvarlo, BlackRock dovrebbe acquistare Bitcoin per fare cassa, quindi dovrebbe acquistarli in versione spot che poi saranno la garanzia dell'ETF, delle quote dell'ETF che verranno appunto inserite all'interno di questo trust. E questo è il primo dato, quindi ovviamente avremo una spinta rialzista notevole su Bitcoin da una notizia positiva di questo tipo perché anche da un punto di vista tecnico BlackRock dovrebbe acquistarlo Bitcoin. Alcuni hanno detto, insomma questa fase ribassista, queste questioni legate alla SEC sono dovute al fatto che BlackRock dovesse rastrellare più Bitcoin possibili. Allora ragazzi, i complottismi sono dietro l'angolo in questo caso, però non so quanto possono essere valide una cosa del genere. Voi pensate davvero che la questione della SEC che fa un po' le pagliacciate, parliamoci chiaro, poi alla fine se non così, un po' sì, un po' no e se la prende con Tizio e Caio sia legato al fatto che volesse lasciare a BlackRock la possibilità di rastrellare più Bitcoin possibili. Allora ditemi la vostra, comunque nei commenti parliamone così magari ci confrontiamo su questa idea un po' di gossip. Più che altro alcuni hanno anche evidenziato la questione che ci sia il fatto dell'aggressione anche a Binance che sia legata a questa cosa. Perché ragazzi? Perché uno degli effetti collaterali, tra virgolette, della questione legata a un ETF trust di questo tipo su Bitcoin sarebbe che è più facile poi andare a fare trading, andare a fare investing utilizzando un ETF anche per gli istituzionali, quindi viene meno l'utilizzo degli exchange. Perché se da una parte abbiamo gli exchange non regolamentati e dall'altra invece abbiamo un ETF spot con replica fisica regolamentato che ci permette di avere anche commissioni di trade e di acquisto molto più basse ragazzi rispetto a quelle degli exchange, capite bene cosa significa. Quindi è anche un estremo ridimensionamento del ruolo degli exchange in questo caso proprio dovuto appunto alla presenza dell'ETF. Ovviamente ragazzi deve essere approvato, quindi cambia, cioè da qui ce ne vuole, ce ne passa acqua sotto i ponti perché ancora siamo in alto mare, questa è solo una presentazione, però dovesse essere veramente approvata una cosa del genere, attenzione a pensare che sia una notizia positiva per alcuni exchange perché non è proprio così. L'ETF in questo caso di BlackRock sarà gestito in custodia da Coinbase, però anche questo da un punto di vista tecnico Coinbase gestirà magari la custodia dei Bitcoin spot, però d'altro canto poi chi userà Coinbase per fare il trade, no? Se esiste un ETF di cui posso comprare un pezzettino e a commissioni insomma molto basse. Tra le altre cose essendo un trust dovrebbe essere anche riscattabile ragazzi e questa la dice lunga, cioè quindi potremmo fare il famoso riscatto dei Bitcoin con le quote dell'ETF e quindi prenderci poi i Bitcoin veri. Quindi in sostanza una cosa che andrà a cambiare radicalmente quello che è secondo me è tutta la questione legata al mondo crypto, cioè dovesse essere approvato un ETF del genere intanto sarebbe il primo perché poi arriverebbero tutti gli altri a catena per non uscire fuori dai giochi e quindi tutti quanti gli altri poi copierebbero il modello di regolamentazione che ha fatto BlackRock e probabilmente saranno approvati anche altre società appunto che gestiscono questi ETF e considerando anche questa cosa qui ragazzi forse siamo davanti a quello che potrebbe essere un cambio radicale e di attesa perché della questione di regolamentazione perché una cosa del genere secondo me andrebbe a impattare su mille punti di vista quindi io direi di fare attenzione in questa fase a forti diciamo reazioni di natura emotiva perché bisogna intanto attendere può essere anche che BlackRock abbia semplicemente voluto dire io faccio la presentazione della richiesta e spingo un po' la Fed quindi creo un po' di pressione politica sulla SEC per prendere in considerazione in maniera più seria questo argomento ma siamo magari lontanissimi dall'approvazione di questa cosa anche perché c'è un problema di fondo il fatto che la SEC non riesce ad individuare un exchange regolamentato che possa essere utilizzato appunto per acquistare questi Bitcoin in spot quindi da un certo punto di vista è un cane che si morde la coda perché da una parte abbiamo magari la volontà di poter approvare un ETF del genere che darebbe la zampata finale gli exchange checks quelli che noi conosciamo attualmente dall'altra invece avremo poi il problema che non abbiamo dei checks regolamentati che quindi questo ETF non può teoricamente essere creato in base a quelle che sono le richieste proprio della SEC stesso insomma è una specie di cane che si morde la coda però ragazzi va assolutamente valutato allora questo secondo me è la notizia principale ma Bitcoin non è che abbia reagito in maniera consistente è vero siamo a venerdì siamo a chiusura della settimana questo tampone è quello che in realtà il mercato sta facendo negli ultimi periodi ragazzi vi faccio vedere un grafico a minutaggi quindi non per farvi vedere meglio i movimenti non daily da qui che più o meno il prezzo di equilibrio di Bitcoin si aggira intorno ai 27.000 e qualcosa ci sono stati questi dump e pump, dump e pump praticamente simili seguendo quello che effettivamente è il canale di Bassista di cui abbiamo parlato seguendo quelle che sono strutture cicliche di cui abbiamo parlato nel precedente video andatelo a rivedere perché vi ho indicato una delle date più importanti da tenere sott'occhio per mille punti di vista dalla settimana prossima parleremo anche infatti di una serie di date dove quella data diciamo avrà molta rilevanza anche per alcune criptovalute però al momento diciamo tutto fila secondo quella che è la struttura il quadro tecnico e ciclico che abbiamo delineato quindi questa scadenza temporale che va da questa fase fino al prossimo 20 di luglio tutta quella fase è mensile ragazzi guardate il video che ho pubblicato mercoledì se volete più informazioni su questa cosa però Bitcoin al di là di questi pump and dump vedete queste fase dump il pump qui poi una fase che scende il dump e pump il giorno dopo quindi palesi manipolazioni dump in questo caso pump piccolino nella giornata di ieri insomma sono degli atteggiamenti particolari questi qui che vanno visti è vero che da un punto di vista tecnico siamo nel laterale ribassista della chiusura del ciclo semestrale quindi tutto secondo le logiche niente di anomalo però un po' ci fa riflettere questo fatto che sembrano un po' manipolate quindi un po' a caso anche quest'ultimo dump l'altro giorno nella giornata di mercoledì è avvenuto senza capo né coda cioè così all'improvviso sembra quasi che il mercato sappia cose che noi non sappiamo stiano giocando delle carte e ha un gioco diciamo che noi non conosciamo detto questo vedete che la reazione all'ETF la presentazione di BlackRock è stata leggera solo ed esclusivamente un superamento di alcuni livelli tecnici come i 26005 modifica questa fase di bassista vi dico già da subito che potrebbe fare una cosa del genere ben diverso invece il superamento dei 27006 che cambierebbe radicalmente molte cose di questo però ne parliamo nel video del lunedì ragazzi per oggi è tutto vi auguro buon weekend spero di ritornare lunedì con un po' più di voce intanto buon weekend e buon sabato e io ritorno in conferenza ciao a tutti grazie